Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto super, super, super bene Benvenuti o bentornati in un mio nuovo Video Oggi come potete notare sono in compagnia di un ospite Lavinia, saluto a tutti Ciao È la seconda volta che registriamo questo video Perché la prima, l'audio non è stato catturato Dal buon proiette, complimenti Allora come funzionerà questo video Andremo a fare dei suoni assieme Cercando di rilassarvi Speriamo Dopo nei commenti dovrete dirmi come è stata la new entry E se la vorrete vedere di nuovo Detto questo vi ricordo di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E di adermi sicuro su Instagram Per non perdervi nessun aggiornamento Link in descrizione Detto ciò direi che possiamo cominciare con Questa della scatola E di iscrivervi al canale ok 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 Grazie per la visione! Perfetto, ed il primo è andato, ora andiamo con il secondo suono, ventaglio, e tu, si questo, appoggiaci dall'altro, qui abbiamo molti trucchi rispetto ai miei suoni, ma li possegco. Perfetto, ed il primo è andato, ora andiamo con il secondo suono, perfetto, ed il primo è andato, ora andiamo con il secondo suono, e il primo è andato, ora andiamo con il secondo suono, ora andiamo con il secondo suono, e il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info perfetto, andiamo con il terzo suono, ovvero la scimmia non so come si chiama non so come si chiama non so come si chiama non so come se non so come non so come si chiama non so come se non so come che Migratura ma mia il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie per la visione. 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 Una cantina, una voce innocente, di destra impalata di una settimana bianca nella viscera del proprio palazzo, e l'arrivo improvviso di una sconsciuta. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Andiamo con l'ultimo suono. Io lui e tu prendi la tassa. Altro trucco. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salute a tutti. Salute a tutti. Salute a tutti. Grazie a tutti.